Il fascino della banda musicale dell'Arma dei Carabinieri, la magia di Castel del Monte, due ingredienti unici per uno spettacolo davvero suggestivo. Dalla marcia trionfale alla gazzaladra, dalla carmen alla danza delle sciabole, tante le musiche magistralmente eseguite dai 102 orchestrali guidati dal maestro direttore, tenente colonnello Massimo Martinelli. L'apice della serata, quando in onore della terra di Puglia è stata eseguita nel blu dipinto di blu di Domenico Modugno, padre dei cantautori italiani, nato a Polignano a Mare nel 1928. La banda dei Carabinieri, le cui origini risalgono al 1820, è nota in ogni parte del mondo per le sue esecuzioni e per il fascino che suscitano i suoi orchestrali con le loro splendide uniformi. Per la prima volta ha suonato nella spettacolare cornice di Castel del Monte, celebre monumento ottagonale, maniero di Federico II, che dal 1996 è patrimonio mondiale dell'umanità unesco. Maurizio Spaccavento, Canal Italia, Andrea.